Ciao, iniziamo subito! Io vado ad applicare questo prodotto dell'Enail Store che è il Calcium, che è un rinforzante veramente buono per le unghie e lo applico come base. Poi vado a prendere questo smalto della Cher in questo color nude veramente carinissimo e lo applico su tutte le mie unghie. Inizio prima con una passata, poi la faccio asciugare e successivamente faccio un'altra passata. E questo è il risultato delle due passate, mi piace veramente tanto, molto elegante come colore. Adesso vado a prendere questo smalto della Orly in questo marrone fantastico e una spugnetta. Vado ad applicare un pochino di smalto sulla spugnetta e poi lo vado a picchiettare sulla mia unghia. Faccio come due triangoli immaginari, a opposti tra loro, quindi su questa vado a creare un triangolino da destra verso sinistra e sull'anulare invece da sinistra verso destra. faccio asciugare quindi la prima passata e poi successivamente ne applico ancora un pochino. faccio asciugare quindi la prima passata e poi faccio asciugare quindi la prima passata. Con il dotteron, suzzicadenti o comunque una forcina vado a creare questi semicerchi diciamo che sembrano le macchie del leopardo. faccio asciugare quindi la prima passata e poi faccio asciugare quindi la prima passata. e questo quindi è il risultato finale. Mi piace davvero tanto, è simpaticissimo, volendo si può fare anche su tutte le unghie. Io vi aspetto al prossimo video e intanto se vi va, guardate questi. Ciao!